... Martedì 30 marzo, beato Amedeo Nono di Savoia. È l'ottantanovesimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 276 al termine. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 19.36. La luna si leva alle 22.02 e tramonta alle 7.59. Muore a Verona il pittore Domenico Riccio, detto il Brusa Suorci. Allievo del Caroto, lavorò a Venezia, a Trento e alla corte dei Gonzaga di Mantova, svolgendo notevole attività anche a Verona, dove decorò l'Arcivescovado ed eseguì in Palazzo Ridolfi il dipinto La Cavalcata di Clemente VIII e Carlo V. Le previsioni per domani. Tempo stabile con cielo sereno, foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, precipitazioni assenti, temperature minime prevalentemente in aumento, salvo locali diminuzioni in quota, massime senza notevoli variazioni. A presto! 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 A presto!